Buonasera, benvenuti alla stessa giornata del campionato nazionale di Serie B di Lettanti, in campo a 2S Martina e BBC Group Bernalda. Per i Bernalda, con il numero 5 Le Penne, con il numero 8 Moliterni, con il numero 9 800, con il 10 Valerio, con l'11 Corsi, con il 13 Doretti, con il 14 Barnabà, con il 15 Russo, con il 16 Le Penne, con il 19 Zerini. Per la 2S Martina, con il 4 Fedele, con il 5 Santoro, con il 6 Magnani, con l'8 Serino, con il 9 Bazzoli, con il 10 Valentini, con il 12 Raskovic, con il 13 Desiato, con il 19 Micoli, con il 17 Simeoni. In quintetto per i Martina, Gianfranco Valentini, Alessandro Magnani, Igor Raskovic, Sasà Desiato e Davide Serino. Per i Bernalda, Russo, Barnabà, Corsi, Moliterni, Ezzerini. Comincia l'incontro, palla 2 del Bernalda, primo possesso Bernalda, Magnani recupera subito il pallone, Desiato. Palla per il privato, tutti insieme per la 2S, Baschia e Tartina, facciamoci sentire allora. Ancora Desiato, Berrascovic, Serino sotto Canestro, subisce il fallo. Non buono il Canestro. Rimessa dal fondo. Magnani ha la rimessa. Magnani ha la rimessa. Per Serino, Serino finta, penetra, realizza. Prima di due punti per lui. Palla in mano di Corsi. Prende il blocco di Moliterni. Corsi ancora. Grazie a bisogno della nostra voce, forza! Corsi. Barnabà in penetrazione. Segna e subisce il fallo. Fallo di Raskovic. Primo fallo personale, primo di squadra. Barnabà realizza anche il tiro supplementare. Magnani, per Desiato. Raskovic. Raskovic ancora per Desiato. Desiato. Per Serino. Serino per Raskovic. Raskovic per Magnani. Magnani per Desiato. Prende il blocco di Serino. La dà dentro. Serino spoglia a Canestro, si gira. Subisce il fallo di Zerini. Due tiri per lui. Due tiri per Davide Serino. Tiri il primo. Realizza. Ancora Serino. Sbaglia il secondo. Rimbalza di Barnabà. Per Corsi. Corsi ancora. Corsi. Sfida a Desiato. Chiamalo schema. Prende il blocco di Zerini. Corsi. Ancora. Palleggia. Per Russo. Russo da tre punti. Sbaglia. Rimbalza di Capitano Valentini. Per Desiato. In contropiede. Desiato. Sfantacanesso per Serino. Serino fuori per Rascoli. C'è Rascoli. C'è da tre punti. Sbaglia. Rimbalza di Moliterni. Corsi va avanti. Per Moliterni. Moliterni. Con la palla in mano. Fuori per Corsi ancora. Corsi per Barnabà. Barnabà da due punti. si realizza. Desiato. Magnani. Magnani per Rascoli. Serino. Penetrazione. Sbaglia il canestro. Malamente. Prende l'imbalzo e realizza. Cinque punti da Martina. Tutti di Serino. Corsi. Zerini. Zerini. Moliterni. Moliterni. Sfida Serino. Penetra. Stoppato da Serino. Desiato. Recupera il pallone. Va in contropiede. Per Serino. Serino. Penetra ancora. Passa Valentini. Che perde la palla sotto canestro. Russo. Mette i piedi fuori dalla linea. E palla da Martina. Cambio per in Martina. Entra Alessandro Santoro. Ed esce Igor Raskovic. Rimessa affidata Alessandro Santoro. Per Desiato. Desiato. Prestato. Desiato. Sotto il blocco di Serino. Per Valentini. Magnani. Magnani. Santoro. Dopo il... Santoro. Desiato. Valentini sotto canestro. Fuori per Magnani. Magnani da tre punti. Sbaglia. Rimbalzo di Moliterni. Per Corsi. Corsi in penetrazione. Subisce il falo di Magnani. Rimessa dal fondo per i Bernalda. Affidata a Russo. Russo per Zerini fuori dall'arco. Zerini per Corsi. Corsi per Russo. Russo in penetrazione. Contro Magnani. Si ferma. In frazione di passi. Rimessa dal fondo per i Martina. Affidata a Capitan Valentini. Verso Santoro. Santoro. Avanti. Porta lui la palla. Santoro in penetrazione. Fuori per Serino. Serino penetra anche lui. Si ferma. Fuori per Desiato. Santoro. Desiato ancora. Passi. In frazione di passi di Desiato. Punteggio fermo sul 5 pari. A 6 minuti e 25 alla fine del primo quarto. Rimessa affidata a Zerini per il Bernalda. Zerini. Per Barnabà. Barnabà contro Santoro. Barnabà aspetta. L'uscita di Russo. Russo. Perde la palla per Santoro. Santoro in contropiede. Va a realizzare. In contropiede. 7-5 Martina. Primo vantaggio Martinese. Corsi porta la palla avanti. Schema pollice. Per Moliterni. Moliterni. Contro Serino. Arresto. Tiro realizza. Sette pari. Desiato per Santoro. Santoro. Per Magnani. Santoro ancora. Esce Desiato. Desiato sotto per Serino. Serino si gira. E' sbaglia. Palla del Bernalda. Rimessa dal lato per il Bernalda. La palla non è andata all'arbitro. Quindi si ripete la rimessa. Si asciughe il pacchetto. Barnabà per Corsi. 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 Prende il blocco di Moniterni. Russo. Esce dai blocchi contro Santoro. Si ferma. Zerini. Zerini contro Capitan Valentini. Perde la palla Zerini. Santoro la recupera. Per Desiato. Per Serino. Ancora per Desiato. Realizza in contropiede. 9-7 Martina. Grande azione in contropiede. Corsi. Per Barnabà. Da tre punti. Realizza. 19-9 Bernalda. Desiato. Per Magnani. Magnani prestato. Ancora Desiato. Desiato a Serino. Magnani. 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 Fermo con la palla in mano. La da a Desiato. Fuori dall'acquillito dei punti. Desiato. Sfida a Corsi. Desiato. Tira. Rimbalzo di Valentini. Sotto canestro. Per Serino. Tre secondi in aria di Davide Serino. C'è un cambio per i Martina. Esce Gianfranco Valentini ed entra Bobo Simeoni. Corsi. Ancora. Sotto per Moliterni. Moliterni contro Simeoni. Tira da tre. Sbaglia. Primo ferro. Corto. Rimbalzo di Zerini. Zerini per Corsi. 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 Corsi in penetrazione. Contro a Desiato. Va. Appoggia al tabellone. Sbaglia. Rimbalzo di Magnani. Desiato. Desiato. Ancora. Desiato. Magnani. Magnani. Passa per Simeoni. Sotto canestro. Simeoni. va a realizzare 11-10 Martina. Primi due punti per Lorenzo Simeoni. Russo contro Magnani. Si ferma. Sotto a Zerini che perde la palla. Recuperata di Davide Zerino. A Magnani. A Desiato. Desiato per Santoro. Fuori dall'arco di tre punti. Santoro. Finita di tirare. Ferma con la palla in mano. Desiato. Ancora. Blocco di Lorenzo Simeoni per Desiato. Desiato si ferma. Tiro da tre punti di Santoro. Sbagliato. Palla fuori. Buttata da Davide Zerino. si asciuga il pallone. Palla. Rimessa del Bernalda a tre minuti e quattro secondi alla fine del terzo quarto sul punteggio di 11-10 per il Martina. Barnabà per Corsi. Corsi con calma porta la palla avanti. Corsi è fermo. Aspetta l'uscita di Russo. Russo prende la palla per Barnabà. Che subisce il fallo di Alessandro Santoro. C'è un cambio per il Bernalda. Esce il numero 15 Russo e dentro il numero 9 è 800. Molitini ha la rimessa per Corsi. Corsi per 800. 800 per Molitini. Molitini da due punti sbaglia corto. Palla fuori per il Martina. C'è il presto del Bernalda. Santoro prende la palla per Magnani. Desiato. Desiato, pressato per Santoro. Santoro per Serino. Serino per Magnani. Magnani pensa di tenere a tre. No. Entra. Fuori per Desiato. Desiato da tre punti. Corto. Rimbalzo offensivo di Desiato. Palla del Martina. Santoro con la... Santoro... La rimessa. Desiato. Magnani. Sfrutta il blocco di Simeoni. Magnani. Fallo in attacco di Lorenzo Simeoni. Cambio per il Bernalda. Sta per entrare il numero dieci Valerio che sostituisce il numero otto Molitirni. C'è un battito. La rimessa dal fondo per il Bernalda. Corsi. Ottocento. Ottocento è lui che porta la palla. Ottocento per Valerio. Valerio per Corsi. Corsi. Corsi contro Serino. Serino gli toglie la palla. Recuperata di Santoro. No. La recupera ancora 800. 800 si ferma. Tira da due punti e realizza. 11-12 per il Bernalda. Desiato per Serino. Sotto canestro. Serino finta. Realizza e subisce il fallo. Grande assist di Sassà Desiato. 13-12 Martina. Con un tiro supplementare per Davide Serino. Cambio per il Martina. Esce il numero 17 Simeoni. È dentro il numero 9 Bazzoli. Esce il numero 6 Magnani. È dentro il numero 12 Raskovic. Serino tiro libero supplementare. Realizza. 14-12 Martina. Corsi per 800. 800 schema 3. 800 Corsi. Corsi ferma a paleggiare. 800 Corsi in penetrazione. Sbaglia. Zerini la tocca. Palla del Martina. Bazzoli è la rimessa. Bazzoli per Santoro. Bazzoli. Santoro. Santoro ferma nella metà campo. Bazzoli. Per Desiato. Superata la metà campo. Bazzoli ancora. Per Serino. Fuori da tre punti. Pensa di tirare. No. Passa Raskovic. Raskovic in penetrazione. Subisce il fallo del numero 19. Zerini. Secondo fallo del numero 19. Zerini. Quarto di squadra. Santoro ha la rimessa. Santoro ancora per la rimanda. Per Serino. Serino per Desiato. Desiato palleggia. Sotto per Serino. Serino sfida Valerio. Serino. Si gira. Tira e realizza. 16 Martina. 12 Bernalda. Corsi. 800. 800. Raskovic schiscivola. 800. Subisce il fallo. Del numero 8. Serino. Cambi per il Bernalda. Entra il numero 8. Moliterni. Russo. Escono il numero 14. Barnabà. Il numero 19. Zerini. Per il Martina. Sta per esordire nel campionato di Serie B. Alessandro Fedile. Esce Igor Raskovic. Due tiri liberi per 800. 800. 800. Sbaglia il primo. Si rimane sul 16-12 per il Martina. 800. Realizza il secondo. Bazzoli ha la rimessa. Per Santoro. 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 Rischia di perdere la palla. La riconquise. Subisce il fallo di Moliterni. Saranno due tiri liberi per Santoro. Perché il Bernalda è il bonus. Santoro ha due tiri liberi da tirare. Cambia per il Bernalda. Entra il numero 13. Doretti. Ed esce il numero 11. Corsi. Santoro ha il tiro libero. Tira il primo e lo sbaglia. Tira il secondo. E lo realizza. 17-13 Martina. 33 secondi alla fine del primo quarto. Doretti. Porta lui la palla. Ha marcato la fedele. Moliterni. Moliterni sotto per Russo. Russo sbaglia. Rimbalza di Santoro. Desiato. 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 Gioca col cronometro. Sbaglio. Sbaglio. Desiato. Sbaglio. 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 Ritornano in campo le squadre con 6 secondi da giocare nel primo quarto l'ultimo attacco sarà del Bernalda Molitini alla rimessa per Russo Russo in penetrazione contro Basso e si ferma 800-800 sbaglia rimbalzo di Serino si chiude il primo quarto 17-13 per il Martina Grazie 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 Santoro Santoro ha desiato Santoro ancora Magnani Santoro Santoro Serino Serino sotto per Basso I Basso Realizza 19-13 Valerio 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 in penetrazione contro Vazzoli Spalli a canestro Sicilia tira Realizza 19-14 si asciuga si asciuga il pallone si può giocare Vazzoli alla rimessa per Santoro lunga Magnani per Serino sotto a canestro Serino 21-15 buon gioco per il Martina Moliterni si gira passi inflazione di passi Rimessa Rimessa laterale Santoro Desiato Desiato per Santoro che esce per Basso I Basso vi da tre punti Realizza 24-15 più 9 per il Martina Doretti Doretti penerrazione sbaglia ma subisce il fallo di Sasale Esiato primo personale è primo di squadra Doretti due tiri liberi primo tiro libero lo sbaglia il secondo tiro libero realizza 24-16 per il Martina Vazzoli per Santoro Santoro per Vazzoli Vazzoli per Desiato Desiato si ferma aspetta che i compagni rientrino Santoro Desiato per Magnani Magnani per Desiato Serino Santoro 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 in penetrazione fuori per Desiato Desiato in penetrazione si ferma tira ma sbaglia rimbalzo di 800 in contropiede 800 per Russo che va a realizzare da sotto 24-18 Martina Desiato ancora Desiato Serino Magnani Santoro Santoro si ferma Magnani Vazzoli 2 secondi alla fine 24 perde la palla Magnani 800 la recupera 800 in contropiede realizzare da sotto realizza e subisce il fallo di Alessandro Magnani 24-20 Martina minuto di sospensione chiesto da Coccio Meneguzzo l'avapor 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 l'anime « Vientrano in campo le squadre. Sette minuti e trentaquattro alla fine del secondo quarto, punteggio di ventiquattro Martina, venti Bernalda, c'è un tiro libero supplementare per ottocento. Ottocento a tiro libero. Sette minuti e trentaquattro alla fine del secondo quarto, punteggio di venti Bernalda. Realizza, ventiquattro a ventitré, rimonta del Bernalda. Magnani. Bazzoli. Bazzoli per Desiato. Desiato per Magnani. Magnani ferma con la pala in mano, penetra, si ferma, la da sotto a segno, segno, si gira, realizza sotto Canestro. Ventisei, ventitré, Martina. Russa, da due punti, realizza. Ventisei, venticinque. Santoro con la pala in mano. Santoro in penetrazione. Va a realizzare. Ventotto, venticinque. Ottocento. Ottocento percorsi. Corsi contro Magnani. Ottocento contro Desiato. Spalle a canestro di Valerio contro Bazzoli. Gancetto. Sbaglia. Impreciso. Serino, rimbalzo. Per Magnani in contropiede. Magnani si ferma. Per Bazzoli fuori dall'alacqua di tre punti. Bazzoli in penetrazione. Fuori per Santoro. Santoro finta di tenere a tre punti. Da due punti. Sbaglia. Rimbalzo di Valerio. Fallo di Serino. Cambio per il Martina. Esce Serino e entra Valentini. Per il Bernalda. Entra Barnabà. Esce Russo. Corsi. Ottocento. Corsi ancora. Sfondo di Barnabà. Fallo subito da Santoro. Commesso da Barnabà. Cambio per il Martina. Entra Igor Raskovic. Entra Sassai Desiato. Sassai Desiato. Sassai Desiato. Sassai Desiato. Sassai Desiato. Rimessa dal lato. Bazzoli per Santoro. Santoro chiama lo schema. Santoro contro 800. Santoro prende il blocco di Bazzoli. la dà Valentini. Valentini per Raskovic. Raskovic sotto canestro. Abbazzoli ma impreciso. 800. Recupera il pallone. 800. Dietro per Valerio. Valerio. Santoro la prende col piede. Santoro. Rimessa da fondo per il Bernardo. 800 per Valerio che non la prende. Santoro può partire in contropiede ma aspetta. Bazzoli. Chiama lo schema. Bazzoli. Finta da tre. Bazzoli per Santoro. Santoro in penetrazione. Sbaglio il canestro. Per Bazzoli. Magnani. Magnani per Santoro che si fa scappare via dalle mani la palla. Bernalda. Palla Bernalda. A 4 minuti e 38 alla fine del secondo quarto sul punteggio di 28.25 per il Martina. Corsi della rimessa a 800. Corsi ancora. Corsi di penetrazione si ferma. esce ancora fuori corsi a 800 a Valerio si ferma percorsi fuori dai tre punti Moliterni fa il blocco sotto per Moliterni a Barnabà, Barnabà realizza Santoro Santoro contro Barnabà a Bazzoli, a Magnani Magnani pensa di tirare dai tre punti non tira tenta di penetrare ma si ferma ora penetra, fuori per Raskovic Raskovic da tre punti, corto rimbalzo di Moliterni percorsi, Barnabà corsi 800 in penetrazione, fuori per Valerio da due punti, realizza sospensione chiesta da Coach Menecuzzo il Bernalda torna in vantaggio 29-28 grazie a tutti 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 Ottavio Ottavio rientrano in campo le squadre palla del Martina rimessa affidata a Valentini Valentini ancora con la palla in mano di 5 secondi passano Raskovic prende la palla per Desiato Desiato con calma va avanti chiama lo schema Desiato per Valentini Valentini per Raskovic sotto canesso per Serino Serino raddoppiato perde la palla palla da Raskovic Corsi porta la palla avanti Valerio Valerio da tre punti sbaglia rimbalzo offensivo di Molitini Molitini sbaglia rimbalzo difensivo di Valentini Desiato può andare in contropiede aspetta e si ferma Valentini Magnani Magnani da tre punti entra ed esce dal canestro Corsi Barnaba Barnaba da tre punti realizza più 4 Bernalda 28-32 Desiato per Raskovic Raskovic sotto canesso per Serino Serino in mezzo a tre si ferma viene stoppato Barnaba recupera il pallone Corsi Corsi in contropiede per Valerio fuori dai tre punti Valerio per Barnaba da tre punti Barnaba realizza più 7 Bernalda 28-35 si asciuga il parquet si asciuga il parquet Magnani rimessa dal lato Magnani per Valentini Moliterni tocca la palla Valentini ha la rimessa dal lato Valentini la rimessa per Desiato Desiato contro Corsi Desiato ancora per Valentini Valentini in penetrazione fuori per Magnani Magnani da tre punti sbaglia rimbalzo offensivo di Serino Serino fa l'antisportivo antisportivo del numero 10 Valerio due tiri e possesso per i Martina Serino e i due tiri liberi realizza il primo 29 Martina Serino il secondo realizza anche questo 30-35 per il Bernalda palla per il Martina Raskovic pressato per Magnani Desiato Desiato a Serino Serino fuori a Raskovic Raskovic a Desiato Desiato subisce il fallo del numero 11 Corsi due tiri liberi per Desiato primo fallo per Corsi cambio per i Bernalda entra Russo esce 800 Desiato due tiri liberi realizza il primo 31-35 Martina realizza anche il secondo 32-35 Corsi per Molitini Molitini sotto canestro per Valerio che verde la palla Valentini la recupera Desiato Desiato ancora per Magnani Magnani in penetrazione fuori per Raskovic Raskovic c'era tre punti realizza 35 pari 35 pari sospensione chiamata da Corsi di Udic a a a a a a a Grazie. 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 Ferma con la palla in mano, Valerio finisce a terra, Corfi perde la palla, Valentini la recupera ma esce con la spalla fuori dal campo, quindi palla Bernalda, 8 secondi alla fine dei 24, si asciuga il parquet. Rimessa per Moliterni, a 8 secondi alla fine dei 24 dei 24, Moliterni per Valerio, Valerio contro Serino, fermo, Russo, 5 secondi alla fine dei 24, 4, palla persa, Magnani la recupera, Tessiato, per Serino, Serino per Raskovic, Raskovic da 3 punti, esce la palla da Canezzi. Si rimane su 35 pari, a 35 secondi alla fine del secondo, Corsi, palla in mano, blocco di Moliterni, Corsi, Corsi è sempre lungo la palla in mano, ora Russo, Russo contro Raskovic, tiro da 2 punti, niente, palla fuori, palla per il Martina, 16 secondi e 90 alla fine del secondo quarto. Martina può tenere fino alla fine, Martina può tenere fino alla fine, Kociriukic protesta con l'albitro, ma si riprende a giocare, Magnani per Valentini, 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 porta lui la palla avanti. L'ha desiato, desiato, la tiene, 5 secondi, 5 secondi, 4, 3, 2, desiato, tira, sbaglia. Il secondo quarto si chiude sul punteggio di 35 pari. Rientrano le squadre in campo per il terzo quarto, Martina rientra con desiato, Raskovic, Magnani, Serino e Valentini. Il Bernada con Russo, Corsi, Barnabà, Valerio e Zerini. La prima palla è del Bernada, Russo. Per Corsi, Corsi per Valerio. Valerio contro Serino, Valerio a Russo, Russo sotto canestro. Per Valerio, Valerio, finta, tiro, sbaglia, rimbalzo di Serino. Serino per desiato, desiato, chiama lo schema. Desiato a Valentini, Valentini a Raskovic. Serino sotto canestro. Passa fuori per desiato, desiato, Valentini, Valentini, si gira, realizza. 37-35 per il Martina. Russo. Russo in penetrazione contro Raskovic. Viene stoppato da Raskovic. Raskovic poi recupera il pallone. Desiato. Desiato per Magnani, Raskovic. Raskovic contro Russo. Gancio realizza. 39-35 Martina. Corsi. Corsi ancora. Corsi. Fallo in attacco di Russo. Fallo subito da Davide Serino. Valentini per Magnani. Magnani per Serino. Serino contro Valerio sotto canestro. A spalle a canestro. Serino si gira. Passa a Valentini. Valentini realizza. 41-35. Parziale del Martina. 6-0. Corsi. Corsi. Sempre lui con la palla in mano. Contra Desiato. Corsi da due punti. Sbaglia. Rimbalza. Rimbalza di Serino. Desiato in contropiede. Tecnico. Tecnico a coach. Due tiri liberi e possesso. Continua a protestare coach Liukic. Ha già preso il tecnico. Desiato ha due tiri liberi. Mette il primo. Mette anche il secondo. Parziale del Martina. 8-0. Palla del Martina ancora. Desiato. Desiato supera Corsi. Corsi lo recupera. Desiato in penetrazione. Perde la palla. Palla a Bernalda. Corsi. Barnabà. Corsi. Corsi per Valerio. Valerio da tre punti. Realizza. Interrompe il parziale. Desiato. Desiato. Ancora lui. Valentini. Raskovic. Serino. Sfila Valerio a spalle a Canesso. Si gira. Realizza. 45-38 per il Martina. Più sette. Corsi. Corsi. Sempre lui con la palla in mano. Russo. Russo a Valerio. Valerio si gira. Stoppato. No. Subisce il fallo da Serino. Secondo fallo. Due tiri liberi per Valerio. Sbaglia il primo. Realizza il secondo. 45-39. Desiato. Valentini. Valentini. Porta lui la palla avanti. La passa. Desiato. Desiato. Ancora. Magnani. Serino. In penetrazione. Si gira. Subisce il fallo. No. Infrazione di passi. Palla persa da Serino con l'infrazione di passi. Zerini alla rimessa. Per Corsi. 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 Ancora. Barnaba. Barnaba. Si ferma. Passa la palla a Serini. Serini sotto a canestro. No. Sbaglia. 45-41 Martino. Desiato. Raskovic. Raskovic. Per Serino sbaglia a canestro. Serino fuori per Magnani. Magnani da tre punti. Sbaglia. Rimbalzo offensivo di Valentini. Subisce il fallo e non realizza. Due tiri liberi per lui. Due tiri liberi per Capitano Valentini. Valentini sbaglia il primo. Realizza il secondo. 46-41. Corsi. Barnaba. Zerini. Sottacanestro per Russo. Russo realizza. 46-43. Desiato. Desiato. Sfrutta il blocco di Serino. Fuori per Valentini. Valentini sotto a Serino. Serino sbaglia. Rimbalzo di Barnaba. Barnaba per Russo. A Corsi. Corsi con la palla in mano. 10 secondi alla fine dei 24. In penetrazione a Corsi. Subisce il fallo di Desiato. C'è un cambio per Ibernalda. Entra col numero 8 Moliterni ed esce col numero 10 Valerio. Nel numero 10 Valerio. Corsi. Due tiri liberi. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. 46-45 per il mattino. Desiato. Sfonda. Corsi. Fallo subito da Corsi. Palla del Bernalda. Cambio per Imartina e per Ibernalda. Per Imartina esce Desiato ed entra Santoro. Per Ibernalda entra 800 ed esce Barnaba. Sfonda. Si asciuga il parquet. 800 alla rimessa. Passa per Corsi. 800. 800 ancora. Corsi. Corsi. Penelazione. La passa a Moliterni sotto Canessa ma Valentini la intercetta. Palla fuori per Ibernalda. 10 secondi alla fine dei 24. 8 secondi alla rimessa. 8 secondi alla rimessa. Fuori a Zerini. Russo. Corsi. 5. tira. Sbaglia. Rimbalzo di Serino. Serino per Santoro. Santoro. Per Serino. Serino per Raskovic. Ancora Serino. Serino fuori per Magnani. Per Valentini. Valentini spalla a canestro. Fuori per Santoro. Santoro. Magnani. Da tre punti. Sbaglia. Rimbalzo di Zerini. Russo. In contropiede. Palla fuori. Palla del Bernalda. 18 secondi alla fine dei 24. Moliterni alla rimessa. per Corsi. Corsi contro Santoro. 800. Tutti a terra. Zerini. Subisce il fallo di Valentini. È il primo fallo di Gianfranco Valentini. Per Zerini sono due tiri liberi. Zerini. Due tiri liberi. Sbaglia il primo. Il secondo. Realizza. 46 pari. Cambio per il Bernalda. Entra il numero 13. Doretti. Ed esce il numero 11 Corsi. Valentini per Magnani. Magnani per Raskovic. Raskovic porta per l'avanti. Da Santoro. Santoro. Sottacanesso. Sbaglia. Rimbalzo difensivo di 800. Doretti. Doretti. Penetrazione. Viene stoppato da Serino. Ma fallosamente. Tecnico a Coccio Menecuzzo. Sono quattro tiri liberi più possesso per il Bernalda. Primo tiro libero lo sbaglia. Secondo lo sbaglia. Ora va a 800 a tirare i tiri liberi del tecnico. Ce ne sono altre due. 800 il primo. Sbaglia. Il secondo. Realizza. 46-47. Palla a Bernalda. Doretti. Contro Santoro. Santoro. Doretti. Ancora. Passi. Perde la palla. Palla recuperata nel mattino. Cambia per in Martina. Esce Davide Serino ed entra Riccardo Bazzoli. Bazzoli. Raskovic subisce il fallo a gioco fermo da Russo. Secondo fallo di Russo. Ancora un'altra rimessa. Santoro. Santoro perde la palla. 800 per Russo. Sdoppato da Magnani. Moliterni recupera la palla e realizza. 46-49 Bernalda. Santoro. Subisce il fallo di Moliterni. Sarà rimessa. Il Bernalda non è in bonus. Rimessa da lato per il Martina. 17 secondi alla fine di 24. Magnani. Per Santoro. Santoro perde la palla. 800 la recupera. Sfondo di 800. Raskovic subisce il fallo. Primo fallo di 800. Genico 1990. Fondo di刻ica. 1-2-100. Pantly. 10-100. 3-2-100. 0-0-0-0-0. 3-0-0-0-0. Bazzoli per Magnani, Santoro Santoro, ancora in penetrazione Bazzoli da tre punti, realizza 49 pari Doretti, palla in mano Doretti in penetrazione Sbaglia l'invaso di Bazzoli Santoro, un momento di gran confusione in partita Santoro, ancora Per Bazzoli, Bazzoli per Magnani Per Valentini Valentini spalla a canestro contro Zerini Valentini si gira e subisce il fallo di 800 E fallo a Tecni Saranno quattro tiri liberi per il Martina Cambi per Invernata Entrano Corsi Valerio e Barnabà Escono Doretti, Zerini e 800 Due tiri liberi del fallo per Valentini Sbaglia il primo Realizza il secondo Va Magnani dalla lunetta a tirare i tiri liberi del tecnico Magnani Sbaglia il primo Realizza il secondo Sarà a palla del Martina Bazzoli alla rimessa Santoro Santoro Santoro, ancora Invernata Corsi Subisce il fallo di Corsi Saranno due tiri liberi per lui 51-49 per Invernata Santoro Due tiri liberi Sbaglia il primo Realizza il secondo Realizza il secondo 52-49 per Invernata Corsi Per Valerio Possi 800 800 Sbaglia il canestro Santoro Prende il rimbalzo E va in contropiede Santoro per Magnani Magnani In penetrazione Contro Pannabala Da sotto a Valentini Valentini A terra Perde la palla La recupera Corsi Corsi Subisce il fallo Di Santoro Grande confusione In campo Nemmeno le arbitri Sanno di chi è il fallo Comunque Sono due tiri liberi per Corsi A un minuto e 46 Dalla fine del terzo quarto Corsi Sbaglia il primo Si rimane sul 52-49 Realizza il secondo 52-50 Valentini La rimessa La rimessa per Raskovic Raskovic Tiene la palla in campo Valentini Valentini Porta lui la palla avanti Supera la metà campo La dà Santoro Santoro Ancora lui Con la palla in mano Santoro Per sotto a Valentini Valentini Realizza Grande assist di Santoro 54-50 Per il Martina Corsi Porta la palla avanti Corsi Per 800 800 Prende il blocco Di Moliterni 800 Si ferma La dà a Barnabà Barnabà Per Valerio Valerio Da due punti Sbaglia il canestro Rimbalzo offensivo Di Moliterni Ma la butta via fuori Palla del Martina C'è il cambio Per il Bernalda Esce 800 Entra Russo Bazzoli Per Santoro Raskovic Magnani Magnani Quattropiede Perde la palla Corsi La recupera Corsi Butta la palla via Grande confusione In campo 54-50 Per il Martina 50 secondi Alla fine del terzo quarto Santoro Con calma Porta la palla avanti Per Raskovic Santoro Ancora Santoro Palla in mano Magnani Sotto a Valentini Valentini Sbaglia il canestro Rimbalzo offensivo Valentini Li tira Sbaglia ancora Rimbalzo difensivo Di Valerio Corsi 30 secondi Alla fine del terzo quarto Corsi Per Barnabà Barnabà Si ferma La dà fuori Valerio Russo Da tre punti Sbaglia Rimbalzo offensivo Di Moliterni Moliterni Realizza 54-52 Martina Santoro 15 secondi Alla fine del quarto Santoro Magnani 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 Da tre punti Sbaglia Rimbalzo difensivo Rimbalzo di Meso di Russo Russo Tira della risperazione Non va 54-52 Alla fine del terzo quarto Un'altra fine del terzo quarto Un'altra fine del terzo quarto Un'altra fine del terzo quarto Si ritorna in campo Martina torna con Rascovice Santoro Valentini Simeone Simeone e Bazzoli Il Bernardo con Russo Corsi Valerio Moliterni E Barnabà Santoro Incomincia il quarto quarto Santoro Valentini Valentini fuori per Bazzoli Bazzoli da due punti Sbaglia Rimbalzo di Corsi Corsi Per Barnabà Barnabà da due punti Subisce il fallo di Simeoni Due tiri liberi per Barnabà Due tiri liberi per Barnabà Sbaglia il primo Realizza il secondo C'è il cambio per i Martina Entra Davide Serino Esce Riccardo Bazzoli No è Valentini che esce Non Bazzoli Santoro Santoro Corre sulla fascia Corsi scivola Santoro rimane libero Da tre punti Tira e sbaglia Barnabà Prende il rimbalzo Barnabà si ferma Palla recuperata da Simeoni Serino per Santoro Santoro chiama calma in campo Santoro Per Simeoni Raskovic Raskovic Bazzoli Santoro Santoro era tre punti Sbaglia Rimbalzo di Moliterni Moliterni se la tira Col suo stesso compagno E la palla va fuori Cambio per i Martina Entra Sassadesiato Ed esce Alessandro Santoro Rimessa per i Martina Raskovic Con la palla in mano Berbazzo Ribazzoli Da due punti Sbaglia Rimbalzo offensivo Di Simeoni Ma aveva commesso fallo E' il terzo Di Simeoni Balla del Bernalda A nove minuti Alla fine della partita Corsi Con la palla in mano Valerio Corsi Corsi Ancora Intanto Russo subisce il fallo Di Raskovic Per Raskovic C'è il terzo fallo Ed è anche il terzo fallo Di squadra Per il Martina Moliterni Per Corsi Corsi a 12 secondi Per concludere l'azione Moliterni Moliterni Contro Bazzoli Si gira Realizza Bazzoli A terra Dolorante Ma si rialza subito Si asciuga il parquet Alla ripresa del gioco La palla sarà del Martina Si può riprendere Simeoni Per Desiato Desiato Prestato Va da Simeoni Simeoni Porta lui la palla avanti Per Raskovic Raskovic C'è sfida a Russo Spalla a Canesso Per Simeoni Simeoni Contro Moliterni Grande movimento Spalla a Canesso Per Simeoni 56-55 Per il Martina Martina torna in vantaggio Barnabà Contro Simeoni Barnabà Stoppato da Serino Palla recuperata Desiato Con calma Desiato Ancora lui Simeoni Simeoni Vazzoli Spalla a Canesso Per Serino Serino Per Raskovic Desiato Desiato Spalla a Canesso Per Simeoni Simeoni Pesta la linea Palla a Bernalda Corsi Corsi per Barnabà Corsi 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 contro Vazzoli Moliterni Contro Simeoni Moliterni A tirare da sotto Realizza Torna in vantaggio Bernalda 56-57 A 7 minuti 35-35 Alla fine Della partita Desiato E lui Con la palla in mano Per Simeoni Raskovic Raskovic Contrastato da Russo Perde la palla Russo Subisce il fallo Di Simeoni E il quarto fallo Di Simeoni Cambio per il Martino Entra Entrano Valentini e Magnani Ed escono Bazzoli E Raskovic Scusate Simeoni Russo Palla in mano Barnabà Per Valerio Valerio Spale a canestro Conto Serino Si gira Tira Corto Rimbalzo Di Valentini Per Desiato Desiato Può correre Ma non lo fa Si ferma Desiato Lui con la palla in mano Desiato In penetrazione La passa A Serino Ma la Viene intercettata Palla ancora del Martino 13-6 Secondi sul cronometro Serino Per Magnani Magnani 3 secondi Alla fine del 24 Tiro Niente Palla fuori Palla del Bernalda 6 minuti E 42 Alla fine Alla fine della partita 56-57 Per il Bernalda Molitini Molitini Conto Valentini Lo batte Molitini Si rimane Si rimane su 56-57 Per il Bernalda Corse Corre Barnabale A tre punti Sbaglia Sospensione E' chiamata La costa La costa Meneguzzo E' chiamata 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 Tornano in campo le squadre Martina con Serino, Raskovic, Desiato, Santoro e Valentini Il Bernarda con Russo, Valerio Ottocento, Corsi e Moliterni Valentini per Santoro Santoro per Valentini Valentini per Desiato Desiato può correre solo Ora viene ripreso Desiato per Raskovic Desiato Desiato in penetrazione Fuori per Santoro Santoro in penetrazione Santoro subisce il fallo e realizza Tiro supplementare per Santoro 58-57 Santoro Santoro al tiro libero Sbaglia, rimbalza di Maliterni 800, Corsi Valerio da 3 punti Sbaglia, rimbalza di Raskovic Santoro Santoro Per Valentini Per Valentini, Desiato Raskovic Raskovic Serino, Spalacanestro Sigila Tira, sbaglia Rimbalzo di Moliterni Corsi Corsi Moliterni 800 Valerio 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 Ancora lui Valerio Perde la palla Raskovic Si ferma Santoro Santoro Chiede calma Desiato Santoro Desiato Ancora Raskovic Sotto per Valentini Valentini Spalacanestro Serino Da 2 punti Realizza 60 57 Martina Corsi Porta la palla avanti Corsi Sbaglia Rimbalza di Russo Su che subisce il fallo di Davide Serino 2 tiri liberi Per Russo Sbaglia il primo Sbaglia il secondo Rimbalzo di Valentini Valentini a Santoro Santoro Corre Santoro Raskovic Santoro Santoro Sta fermo con la palla in mano Chiama il blocco Tiro Sbaglia Rimbalzo di Valerio Corsi Moliterri Perde la palla La recuperata di Santoro Che la dà Valentini Desiato Desiato Ancora Prende il blocco di Serino Si ferma Fuori per Valentini Raskovic Serino Spalacanestro Contro Valerio Si gira Passa fuori Ma viene intercettato da Russo Russo corre Contro Capitano Valentini Che subisce il fallo Russo E sbaglia il canestro Sospensione chiamata Lacoccio Meneguzzo 까 Juana Ma viene intercettato da Russo Es links besc солicato Salah Castoro Di Rest Est Stan Ble Rientrano in campo alle squadre Martina con Serino, Desiato, Raskovic, Valentini e Santoro Ibernada con Moliterni, Russo, 800, Valerio e Corsi 3 minuti e 30 alla fine della partita 60-57 per Martina Russo ai tiri liberi, realizza il primo Va a 58 il Bernardo Russo, secondo tiro libero, realizza anche questo Desiato Per Raskovic, Desiato Santoro, Serino Serino sotto canesto Viene stoppato da Moliterni Ma perde la palla, 800, Santoro la recupera Si rialza, Santoro Sbaglia l'imbalzo offensivo di Serino Serino subisce il fallo e realizza 62-59 per Martina e tiro supplementare per Davide Serino 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 Al tiro libero Sbaglia Sbaglia Russo prende il rimbalzo Contro Santoro in contropiede Subisce il fallo e realizza Fallo di Santoro Terzo fallo di Santoro E tiro supplementare per Russo 62-61 per il Martina Tre minuti alla fine del quarto quarto Russo a tiro libero Sbaglia, rimbalzo di Valentini Per Desiato 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 con calma Va avanti Desiato ancora Fuori per Valentini Per Raskovic Raskovic per Serino Serino Passa la palla Ma viene intercettata da Valerio 6 secondi alla fine Dei 24 secondi Rimessa dal fondo per il Martina Santoro per Serino Serino da due punti Sbaglia Rimbalzo di Moliterni Corsi Corsi ancora lungo la palla Per 800 800 Per Moliterni Che perde la palla Recuperata da Raskovic Desiato con calma Va avanti Due minuti alla fine della partita Più uno Martina Desiato in penetrazione Tira Sbaglia Rimbalzo offensivo di Serino Serino realizza Subisce Serino Grande rimbalzo per lui Cambio per il Bernalda Esce con il numero 14 Barnabà Esce con il numero 15 Russo Tiro supplementare per Davide Serino Tiro supplementare per Davide Serino Serino Tiro libero Realizza 65-61 per il Martina Due minuti dalla fine della partita Corsi 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 ancora lungo la palla in mano Fuori per Valerio Valerio Tiro da 3 punti Sbaglia Rimbalzo di Corsi Corsi subisce il fallo Da Desiato E' il quarto fallo di Desiato Due tiri liberi per Corsi Due tiri liberi per Corsi Corsi a tiro libero Realizza il primo 65-62 Martina Realizza anche il secondo 65-63 Desiato Desiato Subisce il fallo di Moliterni Quinto fallo di Moliterni Finisce la sua partita Entra Zerini al suo posto Valentini per Santoro Santoro per Valentini Desiato Serino Spalle a canestro Contro Valerio Perde la palla Barnabala recupera Corsi Contropiede Corsi si ferma Corsi ancora Ancora lui con la palla in mano 800-800 Penetrazione Infrazione di passi per lui Si fa male Un minuto e tre secondi alla fine della partita Più due Martina 800 esteso a terra Entra Dorritti al posto di 800 Che è a terra Valentini per Santoro Santoro con la palla in mano Valentini Desiato Desiato Ancora lui Raskovic Raskovic Penetrazione La dà Serino Santocanestro Serino realizza Fondamentale questo canestro per il Martina Più tre Più quattro 67-63 Martina Corsi in penetrazione Subisce il fallo di Desiato Il fallo non è di Desiato ma di Valentini E' il terzo fallo Corsi a due tiri liberi Due tiri liberi per Corsi Realizza il primo 67-64 Martina Realizza anche il secondo 67-65 Martina Più due Valentini Valentini porta la palla avanti Santoro Santoro lui con la palla in mano Raddoppiato Raskovic Per Desiato Desiato Prende la palla in mano 9 secondi 7-6 In penetrazione Desiato Prende la palla Serino la recupera Deve tirare Deve tirare Tira Sbaglia Rimbalzo di Serini 10 secondi alla fine della partita Corsi Doretti Doretti 5 secondi Recuperando Di Valentini Serino In mattina vince la partita Vince la partita in mattina 67-65 Per in mattina Finisce qui la partita Grande partita di Davide Semino 27 secondi 45 secondi Per inattina 00 Scholarshi Lui . Grazie.